La sua capacità di intendere e di volere non era scemata al momento dell'aggressione e del successivo omicidio della madre adottiva. I tre periti nominati dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta hanno rivoltato del tutto l'esito sulle valutazioni psichiche relative al giovane gelese Fabio Greco, 40 anni, dichiarato non imputabile in primo grado dal giudice dell'udienza per eliminare proprio per incapacità di intendere e di volere, ma sottoposto alla ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo di almeno 15 anni. Gli esperti nominati dai giudici d'Appello hanno depositato la nuova perizia chiesta all'inizio del nuovo dibattimento dalla legale che rappresenta i familiari della vittima, l'avvocato Flavio Sinatra. Dunque i tre periti hanno raggiunto una conclusione del tutto diversa da quella che contribuì alla soluzione in primo grado del giovane difeso dall'avvocato Giacomo Ventura. La prossima udienza, vissata per il 26 settembre, consentirà di entrare nel vivo delle attività anche alla luce della perizia prodotta dal collegio di esperti scelti dai magistrati. Fin dall'inizio dell'intera attività d'inchiesta, l'avvocato Giacomo Ventura ha messo in luce lo stato di stabilità psichica del suo assistito. Fabio Greco, come si ricorderà, sassinò la madre adottiva a Yolanda di Natale, 73 anni, la notte del 23 agosto del 2012. Teatro del gravissimo fatto di sangue fu l'abitazione di via Cocchiara. Il ragazzo si accanì contro la congiunta massacrandola senza pietà, sfigurandole il volto fino a renderla irriconoscibile. Utilizzò qualsiasi oggetto le capitasse tra le mani, un coltello da cucina, una statuetta in marmo, una sedia in legno, un quadro. Come in un film horror, inoltre utilizzò anche uno spillo conficcandolo negli occhi e nelle guance della vittima. In quella tragica occasione ci fu anche un ferito, il brigadiere dei carabinieri del reparto territoriale di Gela, Giuseppe Emanuello. Il militare fu colto di sorpresa dall'omicida che si era barricato in casa dopo aver ucciso la madre. Emanuello, utilizzando la scala mobile dei vigili del fuoco, si portò al primo piano dello stabile in cui si consuma la tragedia e dopo essere entrato nell'appartamento fu raggiunto da più coltellate che lo colpirono al collo e al braccio sinistro. Nonostante ferito, il brigadiere riuscì a disarmare il killer e ad arrestarlo grazie alla collaborazione dei colleghi.